Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato una risoluzione bipartisan sul dopo terremoto. L'intera ultima seduta è stata dedicata alle comunicazioni della Presidente dell'Esecutivo regionale, Cattiuscia Marini, e al confronto sulle linee operative da seguire per affrontare il dopo sisma. Ricostruzione veloce e trasparente, sossegno all'economia del territorio, tutela dei beni culturali, individuare strumenti idonei per assicurare alle famiglie sfollate casette prefabbricate nel minore tempo possibile. Sono le finalità e gli obiettivi contenuti in una proposta di risoluzione, firmata dai gruppi del Partito Democratico, Socialisti e Riformisti, Forza Italia, la lista Civica Ricci-Presidente, Lega Nord e Fratelli d'Italia, che esprime apprezzamento per l'operato della Giunta, dell'amministrazione comunale di Norcia e dei sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e approvata dall'Assemblea legislativa con 16 voti favorevoli e l'assenzione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Nel documento consigliare di indirizzo vengono sottolineate le azioni predisposte dalla Regione sia per le fasi dell'emergenza che per la ricostruzione. Prevista per le attività economiche e produttive, la sospensione della tassazione nelle aree dove ricade lo stato di emergenza. Si pensa a un processo di ricostruzione veloce, con procedure trasparenti, adeguate risorse e una legislazione chiara. Maggiore flessibilità e apertura da parte dell'Unione Europea, proponendo, se necessario, l'utilizzo di piccole tasse di scopo da applicare sui proventi derivanti dal gioco, mettere a leva tutte le indicazioni dettate dal progetto Casa Italia, che sta ultimando il Governo. Fissare un ipotetico tetto massimo di 50.000 euro per interventi contenuti. Istituire il fascicolo dei fabbricati per tutti gli edifici pubblici e per quelli privati ad uso pubblico e tutto il patrimonio privato situato in zone sismiche. Effettuare una ricostruzione contestuale, differenziando però la percentuale di finanziamento. Per le seconde case, prevedere il rimborso per la sola parte strutturale. Nel prossimo bilancio regionale, assegnare all'attività di prevenzione del rischio sismico un budget annuale pari ad almeno l'1% del bilancio. Di estrema importanza il restauro dei beni culturali e monumentali, essendere la misura dell'art bonus prevista dal Governo, oltre che per i beni pubblici, anche per i beni privati di interesse culturale, in particolare a quelli ecclesiastici. Mettere in campo ogni azione necessaria per una veloce ripresa delle attività economiche, dal settore turistico a quello agroalimentare, fino al commercio. Per il turismo in Valnerina, promuovere da subito eventi particolari. Per le aziende agricole e agroalimentari, di fondamentale importanza, è l'attivazione della misura 5.2 dei fondi europei e l'attuazione di altre iniziative in corso. Richiedere di esentare la Regione Umbria dal cofinanziamento delle misure. Per altre imprese, che hanno subito danni, attivare strumenti a parziale compensazione del mancato guadagno. Sollecitare la grande distribuzione organizzata per allestire banchi norcini della solidarietà nelle rispettive strutture. Prevedere personale di supporto per i comuni interessati dal sisma. Contrasto dello spopolamento, al fine di garantire continuità abitativa nel territorio, privilegiando le infrastrutture con incidenza diretta o indiretta nell'area vasta e interessata, affinché possano aiutare la stessa al mantenimento della densità abitativa ed economica. Particolare attenzione va mostrata a quelle aziende che sono costrette alla delocalizzazione temporanea, mettendo a punto procedure e risorse. Da tenere in considerazione l'ipotesi della detrazione per gli oneri sociali dei dipendenti per un periodo di almeno 20 mesi, come misura alternativa alla cassa integrazione in deroga. In apertura di seduta, la Presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, ha informato l'Aula sugli effetti del sisma nel territorio Umbro e sulle iniziative messe in campo per sostenere le popolazioni colpite, quali Norcia, Preci, Cascia e Monteleone di Spoleto, e causando oltre mille sfollati temporanei. La Presidente Marini ha poi sottolineato che le tende verranno superate, puntando su strutture ricettive, autonoma sistemazione e moduli abitativi, mentre la ricostruzione dovrà essere improntata, detto alla trasparenza delle imprese, degli studi coinvolti e qualità degli interventi. Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente dell'Assemblea Legislativa, Donatella Porsi, che ha voluto rimarcare come il documento approvato rappresenti un contributo politico-istituzionale di rilievo, in linea con le azioni che le altre regioni, con il Governo nazionale, stanno mettendo in campo per risolvere insieme questa infausta contingenza, salvaguardando le specificità territoriali di ciascuno. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Claudio Ricci, Ricci presidente, Silvano Rometti, socialisti e riformisti, Marco Squarta, fratelli d'Italia, Andrea Liberati, Movimento 5 Stelle, Giacomo Leonelli, del Partito Democratico, Emanuele Fiorini, della Lega Nord, Raffaele Nevi, di Forza Italia, e Andrea Smacchi, del Partito Democratico. Presentato in prima commissione il programma delle politiche del lavoro per il biennio 2016-2017, che prevede interventi per 70 milioni di euro. È stato illustrato in prima commissione dai tecnici della Giunta regionale il programma delle politiche del lavoro per il biennio 2016-2017, che prevede interventi per 70 milioni di euro, di cui 66 per azioni specifiche e 4 per azioni di sistema. Gli interventi sono suddivisi in cinque assi. Garanzia Giovani Umbria, a cui andranno 24 milioni di euro. Il pacchetto per adulti disoccupati da oltre sei mesi, a cui sono destinati 16 milioni di euro. Il pacchetto Smart per l'innovazione, che prevede 13 milioni, e il pacchetto Imprese, per altri 13 milioni di euro. Il programma, finanziato prevalentemente con fondi europei, è strategico sia per i giovani che continuano ad essere quelli che incontrano maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, sia per gli adulti che hanno perso il lavoro e sono in attesa di reinserimento. Particolare attenzione è dedicata a coloro che hanno perso il lavoro nei primi anni della crisi e che ancora non sono riusciti a reinserirsi nell'occupazione, spesso a causa dell'età non più giovane o perché in possesso di qualificazioni oramai obsolete, non più richieste dal mercato del lavoro. Entrando nello specifico, il pacchetto Garanzia Giovani Umbria punta ad assicurare continuità al programma Garanzia Giovani in attesa del rifinanziamento del programma nazionale. Nel pacchetto dedicato agli adulti sono previste misure formative di affiancamento per la creazione d'impresa che portano anche all'accesso al microcredito. Il pacchetto Smart è dedicato a creare figure da inserire nelle imprese che operano nei settori dell'innovazione e della ricerca, mentre il pacchetto imprese è rivolto alle aziende che intendono realizzare programmi di sviluppo e riconversione con l'effetto di incrementare il proprio organico e necessitano di figure ad hoc da formare all'interno dell'impresa. In particolare, oltre 8 milioni di euro di questo pacchetto sono destinati al programma Cresco che in due mesi e mezzo dall'apertura del bando ha visto presentare 234 progetti per l'assunzione di oltre 550 persone. La terza commissione consigliare ha inviato alla giunta regionale un documento riguardante la proposta di legge di iniziativa popolare presentata durante la scorsa legislatura concernente modifiche al servizio sanitario regionale. Dopo aver esaminato attentamente nel corso di più sedute il testo, la commissione si è espressa favorevolmente su alcuni contenuti della proposta di legge di iniziativa popolare presentata nella scorsa legislatura concernente alcune modificazioni sul servizio sanitario regionale. Bene l'interazione e il coordinamento fra il distretto e le funzioni di ospedale di territorio svolte dai presidi ospedalieri e dall'azienda ospedaliere, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alla programmazione del piano sanitario, il coinvolgimento del distretto nell'allocazione delle risorse, il fondo sanitario regionale da effettuare prevalentemente sulla base di quote capitali e pesate secondo parametri di natura epidemiologica e demografica. Ciò detto, la commissione ritiene opportuno rinviare la valutazione di un possibile recepimento dei contenuti nell'ambito del disegno di legge ed iniziativa della Giunta che recherà modificazioni al testo unico in materia di sanità. Sempre nella seduta di ieri, la commissione ha proseguito l'istruttoria sul disegno di legge enorme per le politiche di genere e per una nuova civiltà di relazioni tra donne e uomini, confrontando l'articolato con le osservazioni pervenute a seguito delle audizioni con i soggetti interessati. La commissione presieduta da Tiglio Solinas ha anche effettuato un'audizione sulla proposta di legge presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle riguardante la prevenzione della morte cardiaca improvvisa attraverso la diffusione dei defibrillatori. Salvare vite umane in caso di arresto cardiaco non è solo una questione di defibrillatore. La prima azione da fare è attivare subito la centrale operativa del 118 perché i minuti contano in qualunque caso. Lo ha detto il responsabile del 118 dell'azienda ospedaliere di Perugia Mario Capruzzi invitato in audizione dalla terza commissione consigliare presieduta da Tiglio Solinas per approfondire le tematiche sollevate dalla presentazione della proposta di legge dei consiglieri del Movimento 5 Stelle Andrea Liberati Maria Grazia Carbonari. I defibrillatori ha spiegato Capruzzi sono già in dotazione di ogni struttura sanitaria così come di numerosi uffici pubblici anche molte manifestazioni come le sagre sono già coperte da questo servizio con la presenza del 118 sul posto. Per una diffusione più capillare di questi apparecchi serve anche una massiccia opera di formazione ad esempio volendo dotare ogni società sportiva dilettantistica di un defibrillatore servirebbe formare almeno 4 persone e stiamo quindi parlando in totale di migliaia di persone da formare. il defibrillatore serve nel 40% dei casi non sempre non serve ad esempio se il cuore ha smesso di battere caso in cui è necessaria la rianimazione con massaggio cardiaco. Dagli esiti di questa audizione potrebbe uscire una proposta di risoluzione da parte della commissione presieduta da Solinas si pensa anche alla loro diffusione nelle zone meno facilmente accessibili del territorio regionale cominciando con municipi e farmacie. la proponente consigliera Carbonari ha chiesto più attenzione sulle scuole visto che alcune sono orientate a non utilizzare gli apparecchi senza un'adeguata formazione. Gli studenti dell'istituto omnicomprensivo De Gasperi Battaglia di Norcia in visita a Palazzo Cesaroni sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria studenti del primo quarto e quinto anno dell'istituto De Gasperi Battaglia di Norcia hanno visitato Palazzo Cesaroni sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Dopo aver preso posto sui banchi dell'Aula Consiliare ed aver conosciuto le principali attività istituzionali svolte i ragazzi accompagnati dai loro insegnanti si sono spostati nella Sala Brugnoli dove era in programma il saluto della Presidente Donatella Poz che ha assicurato l'impegno dell'Assemblea Legislativa affinché vengano nel più breve tempo possibile alleviati e risolti disagi attuali anche per lo svolgimento dell'attività scolastica che dovrebbe tuttavia tornare alla normalità sin dai prossimi giorni. E anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa e sul canale YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci.